Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Nel mirino dell'attenzione dei media in queste ore troviamo ancora una volta Albano e Romina Power, dato che il cantante di Cellino San Marco ha deciso di sfogarsi e rivelare quali sono state le effettive motivazioni che hanno spinto la coppia alla rottura . Erano gli anni 90 quando la cronaca rosa venne travolta da due eventi incredibili, la scomparsa di Ilenia Carrisi a New Orleans, mai più riprovata, e successivamente la conclusione definitiva del matrimonio tra Albano e Romina Due tra le notizie scioccante che fecero discutere i magazine che ancora oggi dominano in modo indiscusso l'attenzione dei media e della cronaca rosa Infatti, nel mirino del gossip italiano troviamo proprio delle recenti dichiarazioni che Albano ha rilasciato circa il rapporto con Romina Power, tornando a parlare anche degli anni che hanno determinato il loro divorzio in seguito Rottura tra Albano e Romina Power, ancora Sock.Durante l'ultimo ventennio la storia d'amore tra Albano e Romina Power è sempre stata oggetto di discussione nel mondo della cronaca rosa, dato che i fan non hanno mai smesso di sperare in un loro possibile ritorno di fiamma e ritornò della coppia nella vita reale, così come avvenuto per la musica In questi anni, periodo in cui la vita di Romina come quella di Albano è cambiata radicalmente, sono stati numerosi i rumor pubblicati sulla coppia di artisti News che fanno riferimento anche a rapporti tra loro e che ormai sarebbero arrivati ai ferri corti per varie e molteplici motivazioni Eppure, ecco che nel mirino dell'attenzione dei media in queste ore troviamo, ancora una volta, le motivazioni che hanno spinto i due artisti a dirsi addio negli anni 90 Il tutto uno sfogo che Albano ha affidato alle pagine di Novella 2000 Decise di andarsene. Si apre, così, un nuovo capitolo circa la separazione tra Albano e Romina Power, per la quale i fan non hanno mai smesso di sperare in un effettivo ritorno ad essere una coppia Anche se il cantante di Cellino San Marco oggi si mostra sereno al fianco di Loredana Lecciso, mamma dei suoi due figli Jasmine e Albano Jr., detto Bido Albano, dunque, durante la lunga intervista rilasciata a Novella 2000 ha messo nuovamente in chiaro quanto successe con la Power nel momento in cui decisero di porre fine al loro matrimonio, circa 30 anni dopo le nozze, con Romina non c'è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece Ringrazio Romina per tutto quello che ha riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto, ha spiegato il cantante di Cellino San Marco E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n'era già andata, quasi dieci anni prima, ha concluso Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video